Non è ancora una misura ufficiale e già sta destando proteste. L'ipotesi di riattivazione del redditometro su cui sta puntando il governo Draghi per combattere l'invasione fiscale, ricostruendo la capacità contributiva dei contribuenti in base ai loro consumi, sta infatti facendo discutere nelle ultime ore categorie professionali e consumatori. Quello che si credeva infatti essere un capitolo chiuso dal 2018 potrebbe ritornare quest'anno, dal momento che il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul suo portale una consultazione pubblica con scadenza al 15 luglio riservata alle categorie maggiormente rappresentative dei consumatori che dovranno dare il loro parere sulle disposizioni contenute nel nuovo redditometro. Uno strumento economico nato per stanare quei contribuenti che avendo dichiarato un determinato reddito hanno sostenuto in realtà spese per un importo più alto. Mutuo affitto, acquisto di automobili e loro mantenimento, istruzione dei figli, utenze, abbonamenti alle pay tv, persino il mantenimento di un cavallo rientrano tra le possibili spese scandagliate dal redditometro che prenderà in considerazione 55 tipologie di famiglie diverse e che per alcune voci, come quelle relative al cibo e all'abbigliamento, si baserà sulle tabelle Istat. I controlli scatteranno nel caso di uno scostamento del 20% tra i redditi dichiarati e quelli ricostruiti in base ai consumi. Tra i primi a levare gli scudi contro il redditometro, l'unione dei consumatori, secondo cui il 20% dalle medie Istat è uno scarto troppo basso per fare insospettire il fisco. In molti casi, commenta il presidente Massimiliano Dona, basta che un componente della famiglia compri quell'anno un cappotto ossia decida di fare una spesa una tantum per falsare la media e superare il tetto.